Vaccine Green Pass falsi per almeno 25 pazienti, medico Grotta Marese arrestato non risponde al GIP, intanto nelle Marche continuano a scendere contagi e ricoveri. Donna Contromano in A14, Giovanni Abruzzese fermata prima della Galleria di Porto San Giorgio, la postrada evita lo schianto frontale all'altezza del restringimento per il cantiere. A Pesaro nasce Ioapro al Rinascimento il nuovo partito di sgarbi e carriera, il critico d'atte e il ristoratore di nuovo insieme per altre battaglie politiche. A Ascoli rientrano Dionisi e Botteghin per la gara col Como, tre bianconeri positivi al Covid. Samba guai a sentirsi appagati, la carica di mister Alfonsi domani in Fuggi, recuperato al Boni, non Ferri Marini e di Domenica Antonio. Ben trovati all'edizione serale del nostro TG Marche. In apertura ancora la vicenda dei falsi Green Pass con l'arresto del dottor Ido Partemi, il medico di base Grotta Marese, che non ha risposto al GIP. Secondo la procura di Fermo avrebbe favorito l'ottenimento del Green Pass a 25 persone senza però inoculare i loro vaccini. Deve rispondere di falsità ideologica, peculato e truffa ai danni dello Stato. Ma ci fa il punto Stefania Serino. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il dottor Ido Partemi, il 58enne medico di base di Grotta Mare, arrestato per ordine del GIP di Fermo lo scorso 10 febbraio perché avrebbe secondo la procura favorito l'ottenimento del Green Pass a 25 soggetti senza però inoculare loro i vaccini anti-Covid. Il medico è stato sottoposto ieri all'interrogatorio di garanzia. Le accuse a suo carico sono quelle di falsità ideologica e immateriale commessa da pubblico ufficiale, peculato e truffa ai danni dello Stato. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Fermo sui vaccini sprecati e Green Pass falsi, viaggia in parallelo con l'indagine condotta dalla procura di Ascoli e che ha portato all'arresto del dottor Giuseppe Rossi e del presunto complice Maurizio Strappelli. Secondo gli investigatori il metodo sarebbe sempre lo stesso. Vaccini prelevati dall'Asur senza essere inoculati. La falsa attestazione da parte del medico dell'avvenuta somministrazione del siero per poi consentire al soggetto di ottenere il certificato verde tarocco. L'inchiesta trae origine da un'informazione raccolta dai militari del NAS di Ancona su somministrazioni anomale. Anche presso lo studio di Grotta a Mare, come nel caso di Ascoli, approdavano persone provenienti da fuori regione. Resta da capire se nell'inchiesta sono coinvolti altri soggetti, quali presunti intermediari, come nel caso di Ascoli, e quali saranno gli eventuali provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine dei Medici, che dopo l'arresto del dottor Rossi ha sospeso il medico indagato. E proseguiamo con il report giornaliero. Continua il calo dei ricoveri Covid negli ospedali marchigiani. Dopo il meno 13 registrato ieri, oggi meno 4 i ricoverati. 344 i leggenti totali, sono invece 34 i dimessi. I ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 46, con la saturazione che scende al 17,9%. In semi-intensiva ne restano invece 66 e nei reparti non intensivi 232 ricoverati per una saturazione dei posti Covid del 29%. Insomma, dati da zona gialla, seppure la regione resterà arancione per un'altra settimana. Invece sono 5 i decessi correlati al Covid, la più giovane è una donna di 53 anni di Lapedona, con patologie pregresse come tutti gli altri. Per i contagi invece si registrano 2.409 casi nelle ultime 24 ore, dopo l'analisi di 8.139 tamponi. Anche oggi la provincia che registra più contagi è Ancona, 725, seguono Macerata 551, Pesaro Urbino 383, Ascoli 353, Fermo 296 e 101 da fuori regione. E dopo l'incontro di ieri tra l'assessore regionale alla sanità Saltamartini e i sindaci del Fermano e del Piceno sui fondi del PNRR da destinare alla sanità, oggi in Consiglio Comunale a San Benedetto del Tronto si è parlato del nuovo ospedale sulla costa. Il consigliere De Vecchis dice utile un Consiglio Comunale aperto, ma è essenziale la partecipazione della regione. Sentiamo Pierpaolo Flammini. Consiglio Comunale di San Benedetto, si è parlato anche della questione sanità, dopo l'incontro promosso ieri dall'assessore regionale Saltamartini con i sindaci del Piceno, per il Comune di San Benedetto ha partecipato il consigliere Giorgio De Vecchis. Le novità principali riguardano i finanziamenti che arrivano dal PNRR per San Benedetto. Si parla di un nuovo ospedale di comunità, un ospedale non per gli acuti, con un finanziamento di oltre 4 milioni di euro. E' una nuova casa della salute che andrebbe ad aggregare quelle esistenti, le strutture di Via Romagna, ad esempio, di Piazza Nardone. Tutto questo però imprime anche qualche perplessità alla politica san-merittese, perché c'è il timore che questi interventi vadano ad inficiare l'ospedale Madonna del Soccorso in assenza di un nuovo ospedale per il quale Saltamartini ha ribadito l'interesse della regione Marche, ma per il quale ancora non ci sono stanziamenti di bilancio ufficiali. Lavoriamo in una situazione di poca possibilità di interferire, anche la mozione sicuramente importante che avrebbe avuto un senso presentato dalla Bottiglieri di fronte a questa impossibilità di correlarsi con chi ha la competenza della realizzazione perde di significato. Sicuramente, peraltro, siccome, come ha detto l'assessore Saltamartini, oltre a interventi specifici di questo tipo ci saranno tante altre interventi e tante altre questioni da esaminare, sia in relazione agli ospedali per acuti oppure in relazione a dei servizi sociosanitari o in relazione, ad esempio, ai servizi tipo case di riposo e via di seguito, che oggi sono più sanitari che sociali, diciamo, per la realtà e la vecchiaia della popolazione marchigiana. Che dire, ha fatto perdere un po' di senso la discussione, che sicuramente dovrà essere riaffrontata, secondo me, in commissione e poi, da quello che ho letto, insomma, sembrerebbe che ci sia la disponibilità da parte della Regione a partecipare a un Consiglio Comunale Aperto se ne potrà parlare con tanti argomenti, insomma, che ci riguardano visto, insomma, che questa zona è stata sempre figlia di un Dio minore. Sul recupero dell'ex ospedale psichiatrico San Benedetto di Pesaro si è invece accesa una polemica politica tra il consigliere PD Andrea Biancani e la Regione. Tutto nasce dal mancato inserimento proprio nel PNRR della riqualificazione dell'immobile, ma l'assessore regionale Aguzzi chiarisce che da parte della Regione non ci sarà nessuna retromarcia. Sentiamolo. Nessuna retromarcia della Regione Marche sul piano di recupero dell'ex ospedale psichiatrico San Benedetto di Pesaro. L'assessore regionale all'urbanistica Stefano Aguzzi replica così al consigliere PD Andrea Biancani il quale aveva evidenziato che il recupero dell'immobile nella parte di competenza regionale da destinare ai servizi amministrativi e sociosanitari di Asur non sarà inserito tra i progetti del PNRR. Sono 30 anni che quell'immobile è inutilizzato ed in degrado al centro della città di Pesaro e solo grazie a questa amministrazione regionale e al mio assessorato in modo particolare si è divenuti ad un accordo che prevede su quell'area una ristrutturazione ed un riutilizzo. Anzi, grazie a questo intervento della Regione il Comune di Pesaro ha potuto fruire di 15 milioni di euro di fondi pubblici ministeriali per la ristrutturazione di una parte di quell'immobile. Per il resto deve dare sempre il Comune di Pesaro alla Regione Marche 1.100.000 euro perché quella parte che ristruttura noi ovviamente gliela cediamo a titolo oneroso. Noi stiamo aspettando quel 1.100.000 euro per poter partire con un progetto complessivo di riutilizzo che rimetterà a nuovo tutta quell'area e non parliamo di un semplice appartamento, parliamo di 30.000 metri quadri cioè la riqualificazione di un'intera area del centro storico della città di Pesaro quindi un'operazione molto molto importante. Il Comune di Pesaro o meglio il consigliere Biancani dovrebbe ringraziare questa amministrazione che dopo 30 anni di immobilismo ha fatto sì che si potesse ripartire con un riutilizzo di quell'area una messa in sicurezza a norma e a nuovo splendore di quell'immobile quindi noi stiamo lavorando per questo scansiamo le polemiche andiamo avanti con il progetto la Regione Marche procede in questo senso il Comune di Pesaro procede con la ristrutturazione basta con le polemiche e guardiamo avanti e lavoriamo. Intanto oggi a Pesaro si è tenuta una manifestazione organizzata dal PD proprio davanti al San Benedetto per chiedere alla Regione Marche di mantenere i propri impegni per il recupero dell'immobile fatiscente del centro storico il consigliere regionale Biancani ha chiesto agli assessori Aguzzi e Saltamartini in particolar modo di non gettare la spugna sul PNRR evidenziando che c'è tempo fino al 28 febbraio per presentare i progetti e con l'entrata in vigore invece delle nuove regole sulle quarantene nelle scuole il numero degli studenti in isolamento è decisamente diminuito siamo andati a vedere qual è la situazione nel Piceno con il nostro Luigi Miozzi Cambiano le regole per far scattare le quarantene nelle scuole dopo settimane particolarmente difficili a causa della variante Omicron che ha fatto impennare il numero dei contagiati anche tra i più giovani con l'entrata in vigore delle nuove norme volte a favolire coloro che si sono vaccinati e a ricorrere solo in caso di necessità alla didattica a distanza il numero delle segnalazioni giornaliere di studenti contagiati si è notevolmente ridotto il livello è profondamente modificato perché parliamo di un raggiungimento di 5 positività per quanto riguarda le scuole dell'infanzia e delle primarie e ovviamente anche il nido e di 2 positività per quanto riguarda le scuole di secondo grado secondari di primo grado e di secondo grado conseguentemente il numero di quarantene ovviamente si è drammaticamente ridotto come c'era da aspettarsi l'ordine di grandezza sul quale viaggiamo in questo momento è di circa una decina di segnalazioni al giorno prima ne avevamo una settantina al giorno ma proprio perché il cut off era profondamente diverso la novità molto positiva a mio giudizio è che per i vaccinati per gli alunni che hanno aderito alla vaccinazione ovviamente in questo momento si considera il fatto che si sono vaccinati quindi sono esentati per così dire dalla quarantena il che immagino e spero offrirà anche un incentivo alla vaccinazione per i genitori un motivo in più per vaccinare i figli cambiano le regole e cambiano pertanto anche i parametri di riferimento ed è praticamente impossibile riuscire a fare un confronto con quanto avveniva solo qualche settimana fa le classi attualmente in isolamento sono poche ma la situazione nelle scuole continua ad essere monitorate costantemente anche in un periodo in cui la curva dei contagi continua a calare allora attualmente sono state disposte un paio una in un'infanzia e una in una primaria l'ultima ieri dalla collega e oggi stiamo cercando un pochino faremo un attimo il punto per quanto riguarda le secondarie di primo grado riprendiamo in mano i dati e cerchiamo di fare un po' il punto della situazione e di dare seguito c'è stata una sicuramente rispetto al periodo ecco pre natalizio c'è stata un un calo oggettivo dei contagi ed ora la cronaca donna contromano in a 14 la polizia to stradale di porto san giorgio funge da safety car ed evita il peggio prima del restringimento dei cantieri in galleria dove un frontale sarebbe stato inevitabile ha imboccato la 14 in abruzzo ed è arrivata nelle marche poi ispiegabilmente in una piazzola di sosta all'altezza di porto san telpidio ha fatto inversione e si è messa in viaggio verso sud ma percorrendo contromano la corsia nord serata di paura venerdì nel tratto fermano dell'autostrada l'allarme è scattato intorno alle 20 quando i polizotti dell'autostradale hanno ricevuto diverse segnalazioni in rapida successione tutte indicare la presenza in a 14 di una ford ca che viaggiava a contromano nel tratto tra porto san telpidio e porto san giorgio al volante una giovane donna residente nella provincia di pescara che a velocità sostenuta teneva la sinistra quasi a cavallo della corsia di emergenza immediatamente due pattuglie guidate dal comandante roberto test hanno attivato il protocollo di intervento per questi casi un'auto della postrada fatto da safety car rallentando se non addirittura bloccando il traffico che procedeva nella direzione corretta mentre l'altra pattuglia è scesa con bandierine e palette alla mano per intimare l'alt all'auto impazzita il tutto prima che arrivassero i restringimenti di carreggiata per lavori e dove le altre auto non avrebbero avuto scampo con il frontale inevitabile fortunatamente è stato scongiurato il peggio a soli due chilometri più a nord della galleria san giorgio dove iniziano i cantieri la forda la vista della pattuglia che le bloccava la strada ha frenato bruscamente a quel punto la donna è stata accompagnata in sottosezione per accertamenti non è risultata positiva all'alcol test ma era in evidente stato confusionale e siamo alla politica io apro al rinascimento questo è il nome del nuovo partito di vittorio sgarbi e umberto carriera il critico d'arte il ristoratore promotore del movimento io apro lo hanno lanciato venerdì sera nel centro storico di pesaro per noi c'era thomas del bianco io apro al rinascimento il nome del nuovo partito di vittorio sgarbi e umberto carriera il critico d'arte e il ristoratore promotore del movimento io apro lo hanno lanciato venerdì sera nel centro storico di pesaro noi non so se avremo la forza del premier però prenderemo molti voti e quindi di fatto adesso è una nebulosa che si sta organizzando faremo il 25 un'assemblea a roma e poi a metà marzo un incontro con gli altri leader carriera è stato coraggioso è diventato un simbolo io apro è un bellissimo nome perché voglio apro vuol dire non solo io apro i ristoranti ma io apro la vita apro la al tentativo di risolvere alcuni problemi vengano a mettersi in ginocchio a partire da Matteo Ricci a scusarsi perché una cosa e io ho fatto tre vaccini ho avuto due covid io ho avuto il covid senza vaccino e il covid col vaccino quindi non è che si può dire che se il vaccino mettiamo pure il vaccino sia un miracolo però il signor mio amico amico Ricci era che era sicuro che è stata dalla parte della ragione vorrei capire che ragione aveva se che senso ha prendere una medicina e curarsi e invece dire che tu per esempio devi fare il coprifuoco a come dico sempre a Fossombrone non c'è nessuno per strada da due millenni l'arrivo di sgarbi a pesaro è stato anticipato da una sentenza del tribunale di pesaro che ha colto il ricorso di carriera contro l'ordinanza della prefettura di chiusura per 20 giorni di uno dei suoi locali che l'imprenditore pesarese a gennaio 2021 aveva lasciato aperto andando contro il dpcm il tempo è galantuomo il tribunale c'è la tua ragione e quindi ti piace questo il tribunale è arrivato ad occhi il giorno prima no e quindi ci riprendiamo tutti con gli interessi voto i giovani al voto perché la gente non va più votare le ultime amministrative 52 per cento di te non ha votato riportiamo le persone al voto le persone sapranno scegliere chi ha combattuto e che ha resistito negli ultimi due anni ma che avevamo ragione e che era illegittimo chiudere quindi ha fatto bene carriera vero leader futuro sindaco di pesaro a dire io tengo aperto perché era una cosa civile i due sono poi entrati per la cena alla macelleria insieme a diversi commensali c'è un altro procedimento in corso che riguarda carriera indagato per simulazione di reato rispetto alle presunte minacce al figlio rilanciate sui canali social del ristoratore per l'accusa quelle minacce sarebbero inventate perché partite dall'account di uno dei suoi ristoranti carriera smentisce dicendo che un suo collaboratore avrebbe avuto accesso alla password e fatto partire quelle frasi siamo arrivati alla pagina sportiva iniziamo dalla serie b sono saliti a tre bianconeri positivi al covid intanto però in vista della partita contro il comodi domani alle 15 e 30 allo stadio del duca recuperato botteghin e capitana dionisi dopo le partite saltate con cosenza e perugia torna tra i convocati da vedere invece se dopo il mese di assenza dionisi sarà pronto a giocare dal fischio d'inizio sicuri indisponibili invece eramo felicioli guarna e paganini andiamo in serie c dove domani si gioca fermana vispesaro derby molto delicato soprattutto per i canarini l'ancona matelica invece sarà in trasferta ad imola il punto di michele natalini la domenica del derby in serie c domani alle 17 30 fermana vispesaro e pesa tanto anzi tantissimo specie per i gialloblu appena sopra i play out in classifica senza vittoria da otto turni col secondo peggiore attacco del girone b seppure imbattuti allo stadio orecchioni corriolfo in panchina nove partite in tutto già l'allenatore ligure uno dei nove ex bissini in casa fermana altro pepe insomma sul piatto domenicale coi pesaresi reduci dal kao interno contro la viterbese e quindi vogliosi di riscatto ma che nelle due trasferte del 2022 hanno raccolto quattro punti all'andata inizio ottobre fu 2 a 0 bis al benelli domani 26esima giornata e derby numero 12 arricchioni mister banchini ha già parlato all'antivigilia giurando che i suoi faranno ricredere gli scettici dall'alto comunque di un settimo posto che forse pochi l'estate scorsa avrebbero pronosticato prevista invece la sofferenza della fermana un match che i punti pesano arriviamo da una serie di risultati positivi e dobbiamo cercare di riuscire a renderli ancora più positivi la vis non è un avversario semplice è un avversario coraggio che fa un determinato tipo di gioco e bisogna avere la pazienza l'attenzione di far valere le nostre capacità vis ancora orfana di cusumano marcandelle gucci recuperato tonso l'unico ex in casa bianco rossa manetta potrebbe giocare titolare di contro giallo blu coi soliti problemi in difesa in virtù delle squalifiche di blondette rossoni dell'infortunio di rodio alagna e capece si contendono una maglia comeppure in avanti si ripropone il ballottaggio marchi cognigni torna disponibile capitano urbinati tappa delicata anche per l'ancona matelica reduce dalla sconfitta stagionale più pesante il 3 a 0 della pisto jesal del conero e sempre nel pieno delle indiscrezioni societarie con l'incontro tra patron canile il magnate malese toni tiong che potrebbe tenersi la prossima settimana ma domani alle 17.30 c'è la sfida sul campo dell'imolese quintultima e sconfitta nell'ultimo turno a pontedera colavitto spera di confermare il trend per cui l'ancona matelica è imbattuta da sette trasferte ed ora passiamo alla serie di questa mattina agli ultras all'allenamento di rifinitura della samb quindi le dichiarazioni di mister alfonsi che dice guai a pensare di aver risolto i nostri problemi domani la samb ospita infatti il fiugi terzo in classifica recuperato al boni non ce la fanno invece di domenica antonio e ferri marini un fiugi indebolito dal mercato ma le ultime quattro partite il fiugi viene da tre vittorie ma ha perso domenica in casa col chieti 2 a 1 ma prima aveva vinto tre partite di fila quindi sicuramente non è indebolito la terza forza del campionato sta sicuramente in salute nonostante la sconfitta verrà san benedetto come tutti vorrà vorrà fare bella figura e quindi dobbiamo essere pronti a non cascare nel tranello di di pensare che adesso abbiamo risolto i nostri problemi perché sappiamo che non è così sappiamo che noi dobbiamo ancora correre tanto lavorare tanto faticare tanto per stare più tranquilli e per prenderci i risultati che san benedetto si merita oggi sono venuti i tifosi li ringraziamo è stato bellissimo avere il loro incitamento anche se soltanto in allenamento speriamo di rivederli presto allo stadio e speriamo di dargli un'altra gioia domani quello che ci hanno chiesto loro che dobbiamo vincere e ragazzi abbiamo detto di guardare la classifica guardare dove sta il fiugi guardare dove siamo noi quindi non possiamo assolutamente essere appagati dobbiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto di quello che stiamo facendo ma mai appagati non possiamo essere appagati perché siamo la samb e quindi non dobbiamo risalire dobbiamo risalire la classifica dobbiamo stare più tranquilli e toglierci ancora tante altre soddisfazioni non abbiamo fatto assolutamente nulla e dobbiamo essere coscienti però abbiamo questi risultati devono soltanto farci acquisire coscienza che siamo forti siamo una buona squadra e dobbiamo rimanere umili con i piedi per terra che ancora non abbiamo fatto assolutamente niente termina qui l'edizione del tgmar che dopo la pubblicità ci ritroviamo con il tg abruzzo arrivederci